A quanto si dice potrebbe esserci addirittura la presenza di un Leonardo molto speciale in persona in occasione di Leonardo 500 anni dopo la mostra dei codici scritti anatomici, delle macchine del grande genio e delle tele di Piero Franchini. Il tutto nella sala del consiglio comunale di Castiglionfibocchi dal 4 al 6 ottobre con inaugurazione venerdì alle 21. Un evento realizzato dal club amatori Macchine Agricole d'Epoca insieme a Letizia Editore. I visitatori potranno anche lasciare scritto un proprio pensiero nel libro degli ospiti Io e Leonardo che sarà presto pubblicato. Una grande opportunità dunque in uno dei territori simbolo di Leonardo per sapere e ammirare qualcosa di più sul grande artista che ha particolarmente amato queste zone come gli affascinanti calanchi del Valdarno, qui immortalati dalle immagini di Roberto Acciari. Grazie a tutti.